Per tornare appunto all'attualità, perché parliamo di libri ma è giusto anche, essendo uno spazio politico, parlare anche di attualità, vorrei partire dalla post-fazione, tra l'altro davvero molto bella, a me perlomeno è molto piaciuta, del libro Dynamite di Adamic, tradotto da Olivieri. Nella post-fazione Andrea spiega, parte da diversi esempi di lotte al giorno oggi in Italia e racconta appunto diverse di queste. Un fatto che probabilmente conosciamo tutti e tutte è la morte scollegata di due lavoratori che sono Ahmed e Adil, che sono stati uccisi, è stato a tutti gli effetti un omicidio anche politico diciamo, da parte appunto di squadracce legate a dottori di lavoro, camionisti distratti. Ecco, partendo da questo mi verrebbe da chiedere, molto spesso rilasciamo, lasciamo via la verve anche un po' dell'anni 70, della violenza di classe, la trattiamo come se fosse a tratti un colpo di coda di una stagione disaffinita o comunque una violenza politica consegnata alla storia. Partendo da lì mi verrebbe da chiedermi e da chiedervi, abbiamo davvero un paese con tre morti sul lavoro al giorno, un paese in cui soprattutto negli soperi della logistica non è per niente inusuale vedere squadracce di picchiatori mandati appunto dai padroni a sgombrare gli soperi, a sgombrare i picchetti o a bloccare le serrate. Per quello mi chiedo, ad oggi sembra quasi che la classe lavoratrice sia sulla difensiva. Non so, dobbiamo fare dell'autocritica sul sistema del sindacato tradizionale, dobbiamo chiederci per quel motivo effettivamente ancora oggi c'è uno strapotere che utilizza anche la violenza, che è lo strapotere dei padroni fondamentalmente, lo strapotere delle imprese che vediamo soprattutto accanirsi su quei tipi di lavoro, ad esempio il settore della logistica, il settore dell'agricoltura, la quale cronaca ci ha consegnato davvero momenti ed elementi terribili, davvero terribili. Lo vediamo anche appunto a Prato con la Sicobas, le ultime battaglie sindacali loro. Secondo me possiamo unire anche quanto diceva Andrea sul linguaggio e sul racconto, perché una delle prime, io per anni mi sono occupata di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e faccio la rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle aziende sotto i 15 dipendenti a Prato, quindi in una realtà completamente frammentata ma anche di notoriamente culturalmente autosfruttamento, cioè dove il piccolo che aveva il telaio si autosfruttava nel garage per poi diventare se stesso patroncino eccetera e non racconto niente di nuovo perché anche il Veneto e il Nord-Est fa parte di questo immaginario di autosfruttamento. Credo che come l'idea di parlare in 14 lingue per riunire i lavoratori e per ricreare l'altro immaginario, noi dobbiamo pensare ogni luogo di lavoro, ogni lavoro, ogni cambiamento nel lavoro come un mondo a sé che parla una lingua sua, cioè se uno entra in un cantiere ci sono modi di dire, modi di ragionare, anche modi organizzativi tutti suoi a prescindere anche dai lavoratori che parlano più lingue, è proprio un modo di lavorare che include un linguaggio tutto suo, un meccanismo tutto suo, come si racconta e come si fa quel lavoro, non è un caso che raccontare il proprio lavoro sia uno degli aspetti più difficili in assoluto perché contiene delle parole tutte sue, un modo di fare eccetera. Ecco perché non riusciamo a difendere? Perché molto probabilmente chi si elegge come difensore di quel mondo non ne conosce quel linguaggio, non ne conosce quel modo di fare, quel modo di lavorare perché anche il sindacato ha la difficoltà di pensare a quel lavoro come se fosse 10, 20, 30 anni fa e non è più così perché i cambiamenti vanno sempre più veloci e quindi la lingua da adeguarsi è sempre più veloce, l'immaginario da creare sempre più veloce e ci pone sempre delle nuove sfide. Quindi è un modo di tradurre perché la rappresentanza è traduzione prima di tutto, è iniziare a capire quel linguaggio e a capire cosa sta succedendo in quel posto di lavoro e a capire che trasformazioni stanno avvenendo e porsi come più un umile traduttore che non un rappresentante che si elegge sopra gli altri. Questo è uno degli aspetti più difficili io penso per la classe dirigente sindacale attuale, invece vede ancora vecchi schemi, vecchi modi di organizzarsi e quindi deve sforzarsi di fare traduzione. Questo culturalmente implica tutta una serie di difficoltà secondo me molto forti ma solo da lì si può partire e non è un caso che le lotte anche più forti nel nostro paese a partire da Prato, a partire dalla logistica eccetera siano proprio dai migranti, cioè ci arrivano persone e parlano un'altra lingua, che hanno un'altra cultura e che rompono quell'immaginario lì, rompono certi meccanismi e perché lo raccontano e lo vivono anche in maniera differente e quindi la speranza e anche in modo nuovo di organizzarsi secondo me deriva proprio da questi, rompono il meccanismo dentro Prato, dentro l'immaginario dell'autosfruttamento perché capiscono che l'autosfruttamento non può portarmi dopo a diventare io stesso padroncino, io non voglio diventare padroncino, io voglio smettere di essere sfruttato oggi e quindi spaccano anche quell'idea della Prato produttiva che vuole migliorare per se stessa perché vuole diventare se stessa più ricca. Ecco però sono due elementi forti da tenere insieme, il linguaggio, il racconto e come si riporta per le nuove lotte. Aggiungo un'ultimissima cosa, grazie mille Simona del tuo intervento, per un fatto di tempistiche dovremmo essere abbastanza brevi, quindi per favore Andrea vedi di essere cedere. Allora cerco di essere telegrafico, sposo quanto ha detto Simona, aggiungo rispetto all'appendice, in fondo al libro, in fondo a Dynamite troverete un capitolo, un bonus chapter, chiamiamolo una ghost track o qualcosa del genere. Però il punto è che in quel capitolo si accenna alle lotte della logistica di oggi e l'ispirazione per l'inizio di quel capitolo è venuta da una persona che qui dentro diversi conoscono molto bene e un'intervista a Gianni Boetto che qualche anno fa raccontava, forse proprio i microfoni di Radio Sherwood, non ricordo adesso, ma l'intervista l'ha trovata ancora su YouTube, raccontava dell'assalto a un picchetto di operai migranti della logistica da parte di una squadra, nel senso un attacco squadristico che lui definiva giustamente mafioso, camorristico. A me ha fatto impressione sentire Gianni raccontare quella vicenda, non che fosse una novità, non è purtroppo una novità, i picchetti della logistica sono spesso stati attaccati con mezzi veramente biechi, assolutamente illegali, i due lavoratori di cui parlavi tu prima che hanno perso la vita stanno a dimostrare anche questa vicenda, però è uno stilicidio di queste cose. Siamo di fronte a, in Dynamite troverete dei capitoli, ad esempio c'è lo sciopero di Centralia nell'Oregon che assolutamente è emblematico proprio per il fatto che in quel contesto si uniscono in forma antioperaia, reduci della prima guerra mondiale, padroncini, figli della buona borghesia, sedicenti patrioti che ovviamente sono dei convinti patrioti finché la patria manda a morire altra gente nelle guerre che fanno e io ho trovato che ci siano degli elementi che assolutamente ci danno anche degli elementi di riflessione oggi in cui si sta parlando di nuovo molto di fascismo, di antifascismo e via dicendo, noi abbiamo bisogno di riorientare diverse categorie per capire dove ci troviamo e non ho certamente io la pretesa di farlo né qui oggi né in futuro, però penso che libri come questo ci danno una mano ad articolarlo. Sicuramente i problemi dell'organizzazione a cui faceva riferimento Simona prima, a cui avete fatto riferimento anche voi sono assolutamente consistenti, però ripeto questo aspetto, ma qui dentro lo sapete, in spazi come questo lo sapete meglio di tutti. L'immaginario è fondamentale se sta ovviamente a supportare delle lotte concrete con degli obiettivi concreti e con una determinazione. I sindacati di base nella logistica qui in Italia hanno dimostrato, hanno fornito quella determinazione, ma se non ci fosse l'incazzatura dei lavoratori migranti e non solo migranti per fortuna, però per lo più di lavoratori migranti difficilmente otterrebbero dei successi che a volte per fortuna riescono ad ottenere in uno scenario assolutamente negativo ovviamente. Perfetto, grazie Andrea. Invito per ultimo a riflettere sulla superbia di un padrone che pure di non rinunciare ad un privilegio paga delle squadracce per sgomberare gli operai in sopro. Adesso la parola ad Alberto. Vi ringraziamo, ringraziamo Alberto, Simone e Andrea per essere stati qui oggi e ringraziamo tutti e tutte voi per averci ascoltato. Vi ricordiamo per ultimo che potete sfogliare le edizioni di Dynamite e i libri di Simona nel banchetto in fondo nella libreria di Radio Sherwood. Grazie a tutti ancora e buona continuazione. Ciao!